Riprendiamo la nostra trasmissione La Casa della Salute, incontriamo il professor Dario Manfellotto, direttore del Dipartimento di Medicina Interna all'ospedale Fatebene Fratelli Isola Tiberina di Roma, presidente nazionale del FADOI, la società scientifica di medicina interna. Allora, lei è presidente del FADOI, che cos'è? Di cosa si occupa? Tanto grazie per l'invito. La FADOI è la federazione dei medici internisti ospedalieri, riunisce i medici internisti presenti in tutti gli ospedali italiani. Quasi 1100 ospedali hanno un reparto, un'unità operativa di medicina interna e tipicamente ci occupiamo dell'assistenza al malato complesso. Lei parla di medicina interna. Che significa medicina interna? Perché sottolinea questo aspetto, questo carattere, ben diversa dalla medicina generale? Perché? Perché la medicina interna è tipicamente la specialità, che noi siamo specialisti ovviamente, come gli altri specialisti, e ci occupiamo proprio del malato ospedalizzato, il malato che è difficile da curare perché ha non soltanto una malattia, ma un insieme di malattie, una condizione di multimorbidità. Questo è qualcosa di diverso dalla medicina generale. La medicina generale è quella del territorio, dei medici di famiglia, dei medici di medicina generale, altrettanto dignitosa, ma è un'altra specializzazione. Cosa ha cambiato il Covid nel vostro lavoro di medici, di medicina interna? Ha cambiato tanto. Ha cambiato la vita, ha cambiato l'organizzazione, il modo di lavorare, il rapporto con i pazienti, il rapporto con i familiari. È stata un'esperienza devastante, ma anche culturalmente molto interessante. Ci ha costretto a modificare le nostre abitudini, ma abbiamo continuato a lavorare sui malati complessi. i malati Covid sono complessissimi da trattare. I vostri reparti di medicina interna sono stati stravolti, sono stati dedicati ai ricoveri di Covid. Che cosa ha significato a voi praticamente proprio? Noi abbiamo in Italia circa 30.000 letti di medicina interna. Siamo arrivati ad averne 65.000 di area medica, che coordinavamo come internisti, perché a un certo punto i letti nostri non bastavano più, ci volevano sempre altri letti, li abbiamo presi negli altri reparti. Questo ha significato che le stesse persone che assistevano 30.000 pazienti hanno dovuto assistere il doppio dei pazienti. Quindi complessità organizzative e complessità anche di dover mettere insieme tante competenze, tanti altri specialisti da coordinare nel loro lavoro. Quindi un'assistenza molto più complessa in queste situazioni. Assolutamente. Assolutamente. Voi parlate tanto e sottolineate della necessità di ospedali di comunità, presidi li chiamate. Che cosa intendete e cosa pensate che possano essere? In realtà noi abbiamo puntato l'attenzione su questi ospedali di comunità che sono previsti dal PNRR. Noi abbiamo detto attenzione, gli ospedali di comunità devono essere coordinati e organizzati in un modo più chiaro di come il PNRR e anche un piano di attuazione del PNRR prevede. Perché è il rischio che gli ospedali di comunità vengano a snaturare l'ospedale tradizionale e soprattutto a togliere letti all'ospedale tradizionale e non si sa a chi effettivamente vengano poi affidati. Ci vuole molta attenzione nell'organizzazione di questa nuova struttura. Grande attenzione da parte vostra, grande impegno è sulla cirrosi epati. Perché questa attenzione? Che cosa sta succedendo? Inquadriamo bene, oggi si può parlare ancora di cirrosi epatica? Dopo le cure che si sono state contro l'epatite C è ancora un'emergenza? Guardi, ha veramente centrato un problema estremamente importante perché ha senso parlare di cirrosi epatica. Il fegato è un organo centrale del nostro organismo. Siccome noi ci occupiamo di malati complessi, non c'è malato più complesso del cirrotico o comunque è fra i malati più complessi perché la malattia di fegato coinvolge poi tutti gli altri organi, il cuore, i reni, i polmoni e quindi è una malattia veramente estremamente complessa. E non è soltanto legata all'infezione virale. Prima il virus dell'epatite B, poi il virus dell'epatite C, però c'è il problema dell'alcolismo. Adesso il grande problema è quello della malattia metabolica, quindi la steatosi del fegato, anche non legata all'alcolismo che poi diventa malattia cronica e diventa cirrosi. Con il Covid, questi malati di cirrosi pagano un grande prezzo? Sì, perché è una di quelle condizioni di malattia spesso associata, come dicevo un momento fa, ad altre condizioni di malattia che rende i malati più fragili e molto più sensibili ed esposti all'infezione da Covid e a un'evoluzione negativa della malattia. È facile fare diagnosi di cirrosi epatica il malato quando vi arriva? È facile fare la diagnosi quando la malattia è conclamata, nel senso che il medico la riconosce immediatamente. Il problema è fare una diagnosi molto precoce delle condizioni di rischio e quindi cercare di intercettare la malattia prima che si trasformi in una malattia conclamata, come la cirrosi, dalla quale poi non si torna indietro. La gestione del malato cirrotico è facile, complessa, come? Essendo, come dicevo, una malattia complessa, anche l'assistenza è complessa. Ci sono tante implicazioni, c'è la cura della malattia di base, per esempio l'infezione virale o l'alcolismo o il disturbo metabolico o il diabese o l'obesità, tutte le condizioni che possono progredire verso la cirrosi e complicarla. E poi bisogna tener conto della cirrosi e delle sue possibili complicanze che a un certo punto devono essere affrontate in modo sapiente e clinicamente esperto. La complicanza della cirrosi è l'encefalopatia epatica. Cos'è questa encelopatia epatica? Il fegato ha il compito metabolico di trasformare i prodotti della digestione e anche di altre sostanze dell'organismo, trasformarle ed evitare che queste scorie si possano accumulare. Quando il fegato non funziona e non fa bene questo lavoro, queste scorie si accumulano e possono essere tossiche per il cervello. Quindi l'encefalopatia significa la sofferenza del cervello legata alla malattia del fegato. È una malattia in più stadi. Si comincia prima con la sonnolenza, poi con l'agitazione e la confusione, poi c'è il sonno profondo, poi c'è il coma. È una delle condizioni più frequenti per le quali il malato cirrotico viene ricoverato in ospedale. Malato cirrotico, epatocarcinoma. Che cos'è questa epatocarcinoma? Come si presenta? La cirrosi è caratteristicamente una malattia legata alla trasformazione del tessuto del fegato e soprattutto della struttura connettivale del fegato che sta fra le cellule nobili di questo importante organo che si trasformano diventando rigide. La fibrosi significa che diventano delle cicatrici all'interno del fegato. A mano a mano che queste cicatrici aumentano, questa fibrosi aumenta, la parte nobile funzionale del fegato viene compromessa e non funziona più. Può accadere anche che questa trasformazione prenda poi la strada della trasformazione tumorale e quindi compare l'epatocarcinoma. Ecco, i pazienti con cirrosi vengono affidati a voi internisti. È una malattia da voi specialisti internisti? Beh, molti di noi sono epatologi, molti epatologi sono internisti. Per lo più all'interno dei reparti delle unità operative di medicina interna c'è sempre un ambulatorio e dei medici che si occupano con grande esperienza di malattia del fegato perché, dicevo, il fegato è un organo centrale dell'organismo ed è quindi giusto che chi si occupa di malati complessi si occupi del malato cirrodico. Ecco, ma questi pazienti con cirrosi vengono poi seguiti? Sono pazienti molto molto complessi una volta tornati a casa dopo la vostra assistenza ospedaliera? Sì, diciamo che la gran parte dell'assistenza a questi pazienti avviene proprio al di fuori dell'ospedale. Cioè, i pazienti cirrotici vengono ricoverati soltanto in presenza di gravi complicazioni. Altrimenti devono essere seguiti in modo sapiente a casa loro con controlli ambulatoriali se possono venire all'ambulatorio o altrimenti con controlli domiciliari. È in grande rapporto con i medici di medicina generale che citavo prima che insieme al medico internista ospedaliero devono essere impegnati nell'assistenza a questi pazienti. Ma l'assistenza a questi pazienti è estremamente complessa, complicata. La famiglia non ce la fa il più delle volte. Il medico di famiglia? Il medico di famiglia viene sempre coinvolto e fa sicuramente un grande lavoro. Però è chiaro che lo specialista internista lo specialista epatologo aggiunge quelle competenze che servono sicuramente. La famiglia ha un ruolo importante. Quando il malato si deteriora diventa un malato molto dipendente e ha bisogno di essere aiutato anche nelle attività quotidiane. Il malato in encefalopatia può avere un'encefalopatia acuta e quindi acutamente avere problemi mentali e cognitivi oppure cronica quindi avere anche dei disturbi cronici del comportamento. Telemedicina, telemonitoraggio sono due aspetti di una rivoluzione in sanità. Assistere attraverso la telemedicina un malato, per esempio un cirrotico, è possibile? Avete esperienza in questo? Sì, è possibile. Abbiamo esperienza. Diciamo anche che ovviamente la telemedicina non può sostituirsi all'attività clinica, però la può integrare, soprattutto in questi pazienti. Se noi abbiamo, come dicevo prima, dei pazienti che possono venire in ambulatorio è tutto più semplice. Ma se il paziente deve stare a casa, non si può muovere, allora telemedicina, telecontrollo, telemonitoraggio, teleconsulto, tutto questo ci aiuta molto. Per esempio, io posso interrogare il paziente e lo metto davanti al computer e dall'ospedale posso interrogarlo e fargli alcune domande, alcuni questionari che mi riescono a definire meglio il suo stato mentale e la capacità cognitive. posso vedere anche se per esempio è diventato più giallo, più etterico rispetto a prima. Posso vedere alcuni segni clinici che ovviamente si vedono meglio di persona, però anche al computer e con la telemedicina possono essere valutati. E insieme al paziente posso sentire l'abbadante o il familiare che mi racconta qualche episodio della giornata e qualche cosa che è successo e che mi indirizza anche su una modifica del trattamento, su eventuali controlli e analisi che devo fare. Ecco, ci vuole sempre la sapienza del medico nel gestire le tecnologie, però le tecnologie sono importanti e ci possono aiutare molto. Nelle varie regioni italiane il malato di cirrosi è curato allo stesso modo un po' ovunque o ci sono decisioni più rapide altrove, in alcune più che in altre? Ma c'è una grande esperienza in alcune regioni del nord, soprattutto del nord-est, quindi il Veneto, il Friuli, anche il Trentino, legate al fatto che c'è sempre stato in queste regioni tradizionalmente un uso delle volte un pochino eccessivo di vino, di alcol e quindi lì c'è stata una grossa fetta della popolazione che è andata in conto alla steatosi del fegato e in molti casi alla cirrosi e all'epatocarcinoma. Non a caso, proprio nel Veneto, ci sono alcuni centri di riferimento molto importanti proprio per le malattie del fegato, proprio per l'epatocarcinoma, sia per la cura chirurgica, sia per le cure mediche. Queste rappresentano anche, in qualche modo, delle regioni leader dal punto di vista delle raccomandazioni, delle linee guida, delle indicazioni cliniche di trattamento per tutti noi. Però devo dire che ormai le conoscenze su tutto il territorio nazionale e i centri eventualmente di riferimento sono distribuiti in modo abbastanza omogeneo. Trapianto di fegato per il paziente cirrotico, quando? E il trapianto di fegato quando è indicato e quando no? Il trapianto di fegato è un settore della trapiantologia molto sviluppato in Italia. C'è una tradizione, c'è una tradizione buona in Italia di trapianti di rene, trapianti di fegato e il trapianto di fegato viene riservato ai pazienti nei quali sono rispettate alcune condizioni. Ovviamente devono essere pazienti più giovani, devono essere pazienti nei quali non ci sono altre condizioni di malattia che possano rendere il trapianto d'organo, quindi l'inserimento di un nuovo organo, qualcosa di molto complesso. In certi casi si può fare anche un trapianto parziale di fegato anche perché il fegato ha una capacità rigenerativa e quindi ci può essere un trapianto parziale. Ci sono però delle condizioni assolutamente fondamentali, cioè un etilista per esempio che deve essere trapiantato non può essere trapiantato se non siamo certi che abbia smesso l'assunzione degli alcolici da almeno sei mesi e che sicuramente non riprenda dopo il trapianto, altrimenti sarebbe veramente un intervento inutile e forse sprecato, è brutto dirlo, ma sicuramente non porterebbe ai risultati che si desiderano. In certi casi anche una forma di epatocarcinoma può essere sottoposta alla rimozione del fegato e all'innesto di un trapianto nuovo. La FADOI, di cui lei è presidente nazionale della Società Scientifica di Medicina Interna, la FADOI ha avviato diverse attività intorno ai problemi del fegato, anche un network epatologico, che significa, cos'è? Il network è una rete, ovviamente abbiamo usato questa brutta parola inglese, però insomma in italiano possiamo dire la rete è epatologico, abbiamo detto network epatologico, il network è una rete che tiene insieme i centri di medicina interna che si occupano ad alto livello di malattie del fegato e in particolare di cirrosi, in modo che tutti quanti possano parlare la stessa lingua e tutti quanti possano avere un atteggiamento uniforme nei confronti del trattamento, dell'approccio clinico a questi pazienti e non solo ai pazienti, anche ai loro familiari, anche ai badanti, anche insegnando qual è il modo migliore di gestire a domicilio questi pazienti. Ecco, il network mettendo insieme questi centri di riferimento ha creato, credo, a livello nazionale una struttura di riferimento, come diceva prima, distribuita in tutte le regioni, in tutto il territorio nazionale. Grazie a questo network verranno fuori delle linee guida, delle linee guida per l'assistenza, i comportamenti che bisogna avere su questi malati, sia per i familiari, per chi li assiste a casa, ma anche per chi li cura in ospedale, da specialista. Sì, noi abbiamo prodotto una serie di documenti che chiamiamo in vario modo, che sono anche preliminari alle linee guida nazionali, position paper, documenti di riferimento, raccomandazioni cliniche, app dedicate a questi temi e che possono essere facilmente consultate, fino ad arrivare alle linee guida, quando avremo questo network completamente distribuito e anche attività di formazione in questo senso implementate su tutto il territorio nazionale, anche le linee guida di facile accesso, di facile riferimento potranno essere distribuite. Noi spesso abbiamo bisogno quando seguiamo i nostri pazienti di consultare la letteratura, di andare a vedere qual è il miglior trattamento e il miglior approccio clinico che possiamo dedicare ai pazienti. Progetto Tiberino per assistere i malati di cirrosi, malati di fegato sostanzialmente, in che consiste? Qual è il vostro impegno? Il progetto Tiberino che abbiamo chiamato così anche perché è nato all'isola Tiberina, nel senso che ne parlavamo e abbiamo avuto l'idea di questo progetto formativo che poi Tiberino è diventato un acronimo che sta per il trattamento migliore del paziente con cirrosi in ospedale e anche fuori. Il progetto Tiberino è un progetto che è iniziato poco prima del Covid e che adesso è già proseguito e che possiamo e pensiamo di portare a termine con altri dieci incontri formativi in tutte le regioni italiane con esperti locali e un board di riferimento nazionale proprio per insegnare ai medici internisti ma anche ai medici di medicina generale le migliori modalità di affrontare e di trattare i pazienti cirrotici come riconoscere la malattia precocemente come trattarla nel paziente ancora non complicato e poi nel paziente che si complica e si ricovera in ospedale. Anche per oggi noi abbiamo finito ci rivediamo la prossima settimana con altri argomenti di medicina arrivederci